Beh sì, l'ho già sentito, spero di incontrarlo presto, ha lavorato bene, ha lavorato bene sia in Italia che all'estero, in Francia, secondo me viene a Firenze con tutte le carte in regola, sono sicuro che farà bene, ho già, come dire, lanciato l'idea di fare delle cose insieme molto belle e speriamo davvero che almeno una di quelle due gru che sono lì da non so quanti anni, forse voi lo sapete? Giugno 2006. Ecco, dal 2006 almeno una di quelle due gru venga tolta il prima possibile perché francamente se avessi tenuto io, sindaco di Firenze, un cantiere con due gru per quasi 20 anni, lissi altro che striscioni allo Stato. Gimito dice che la responsabilità delle gru è proprio dell'amministrazione comunale. Mi scusi ma il cantiere di chi è? È del Comune o dello Stato? Che avreste potuto fare un... Faccio questa domanda, il cantiere è del Comune o dello Stato? Lei lo sa? Di chi è il cantiere? È un cantiere dello Stato. Ora che io mi debba anche occupare dei cantieri dello Stato è dura. Bastava che Schmidt chiedesse scusa per il fatto che aveva promesso di inaugurare il Vasariano durante il suo mandato e non l'ha fatto. Chiedesse scusa per il fatto che aveva promesso di togliere almeno una delle due gru e non l'ha fatto. Chiedesse scusa per il fatto che avrebbe portato una soluzione all'uscita di Isozaki, tanto da viaggiare fino in Giappone, incontrare l'architetto Isozaki a Tokyo e non l'ha fatto. Perché quando il sindaco non fa le cose i cittadini chiedono conto al loro sindaco. E io da sindaco ho a cuore anche quello che succede agli uffizi. E se parliamo delle grandi questioni degli uffizi, dal corridoio Vasariano alle gru del cantiere, all'uscita di Isozaki per la quale è stato fatto uno schizzetto di un progettino, di un giardino di quartiere, io mi aspettavo che su questo ci fosse un minimo di correttezza.